Provvedimento di sgombero per un alloggio IACP in via Don Carlo Lamura ad Angri. L'occupante non è risultata in possesso dei requisiti per abitare nell'appartamento. L'iter per sgombrare l'abitazione è datato ottobre del 2017 e dentro i prossimi 15 giorni l'alloggio dovrà tornare a disposizione dello IACP Salerno, pena lo sgombero coattivo, come scrive la città di Salerno. Il provvedimento riporta in luce la situazione legata agli alloggi in località Fondomessina, che già in passato sono stati oggetto di occupazione abusiva, richiedendo perfino l'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura che ha emesso provvedimenti nei confronti di quanti avevano occupato senza alcuna autorizzazione le abitazioni che attendono ormai da anni di essere assegnate. La gestione commissaliale Valeri si è attivata per assegnare entro la fine dell'anno i 26 appartamenti che attendono di essere occupati dagli aventi diritto. La graduatoria sarà pubblicata dopo attenta valutazione di ogni singolo requisito in possesso degli oltre 300 cittadini che hanno inoltrato la domanda di partecipazione al bando pubblicato nel 2014. L'enter è stato concentrato anche sulla necessaria verifica della regolarità dei pagamenti delle decine di utenti che hanno beneficiato dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel corso degli anni.